E beh ragazzi, e beh, belle partite sicuramente Allora, parleremo in questo video di Fiorentina-Bologna 1-1 post partita del primo tempo Così come Udinese-Atalanta 1-0 Post partita del primo tempo, se volete andarvi a vedere quello del secondo vi basterà andare avanti nel video E poi faremo anche Lazio-Roma tra un paio di ore Non faremo Interfrusionone perché sinceramente non ho tanta voglia di vedere quella partita Perché penso sia anche scontata Volevo vedere queste partite delle 15 che devo dire a vita mi stanno piacendo Partiamo da Fiorentina-Bologna al momento parziale sul 1-1 Io non so cosa pensano i tifosi della Fiorentina di quel che dico adesso Però la Fiorentina è una squadra uguale La Fiorentina secondo me è da un anno in cui non è migliorata in quasi nulla Perché la Fiorentina ha il gioco La Fiorentina spesso manovra palla da destra a sinistra Ha dei buoni giocatori La Fiorentina è una squadra forte Però ragazzi io vedo una squadra che non migliora Ha gli stessi pregi che non è un male Certamente per esempio penso anche al centrocampo Che secondo me è il miglior reparto della Fiorentina Visto che la difesa e l'attacco non mi convincono Penso a Nico Gonzalez che sta facendo molto molto bene È una squadra che comunque ha raggiunto due finali europee Anzi una finale europea e una finale coppita lo scorso anno Vero Però mi sembra sempre quella squadra che non riesce a fare il salto di qualità definitivo Tipo l'Atalanta faccio un esempio L'Atalanta ha fatto il salto di qualità definitivo qualche anno fa La Fiorentina non l'ha fatto La Fiorentina non l'ha fatto E secondo me la responsabilità è dell'allenatore Perché nell'italiano non cambia veramente mai il sistema di gioco Più che altro vedo una squadra con sempre gli stessi problemi Una linea difensiva che ne combina di ogni colore Infatti la Fiorentina molto difficilmente ha la porta inviolata Ha un portiere che con tutto rispetto non è un portiere da big Da una squadra grande, da una squadra forte come la Fiorentina Ha dei giocatori che non sono da Fiorentina Ha anche degli attaccanti che non fanno gol E questo secondo me è anche la responsabilità di italiano Mentre invece il Bologna Mentre il Bologna appunto Vede una squadra con molti miglioramenti Nel senso se penso al Bologna di un anno fa per dire Al Bologna di adesso Vedo dei miglioramenti clamorosi Su ogni punto di vista Perché Bologna è una squadra Che già con Tiago Motta l'anno scorso non aveva fatto male Ma quest'anno sta veramente facendo Veramente benissimo E non me lo aspettavo Onestamente Perché io non sono un fan di Tiago Motta Però è un allenatore che senza altro sta Sta avendo più Mi sta piacendo di più rispetto a italiano Per dire Ferguson, Zilze e Orsolini Stanno facendo la miglior stagione in carriera Per dire Salma Kers Forse è quel giocatore che non è entrato ancora Negli schemi Tra virgolette Froel e Rabischel Sono giocatori molto molto interessanti E in questa partita Ha segnato Buonaventura per la Fiorentina Gol bellissimo Dopo un recupero di palla alto Traversa gol E poi ha segnato Zilze Su calcio di rigore Su mano di Parisi Netta Zilze che poi Spiazza Terraciano Giocatore Formidabile Zilze Il Bologna aveva trovato pure il 2-1 Nel finale Con Orsolini Però gol annullato In fuorigioco Insomma A me convince molto più il Bologna Che magari ha un gioco un po' più difensivo Perché il Bologna è una squadra che subisce meno gol Rispetto alla Fiorentina È una squadra che ha Un'impostazione difensiva migliore Penso anche a Calafiori Rivelazione del campionato Beuchema È una squadra un po' più difensiva Il Bologna Ma con un gioco Meno bello Ma più efficace Quindi tanto di campare il Bologna È una partita Con Di primi Comunque di colpi scena Nei primi secondo me 20 minuti Meglio la Viola Poi Nella seconda parte di gara Meglio il Bologna Che ha provato anche Che è anche andata vicino al gol Con Salma Kers Per quanto riguarda invece Udinese-Atalanta 1-0 E questo è il risultato Di Udinese-Atalanta A fine primo tempo Una partita Diversa Con Con Diciamo l'Udinese Molto Molto più Offensivo Dell'Atalanta L'Atalanta Non mi è piaciuta Non mi è piaciuta Poi è chiaro Ci sta Cioè se oggi l'Atalanta Non vince Non Non casca giù il mondo Ci può anche stare Non vincere a Udine Perché comunque l'Atalanta Sta facendo Un ottimo campionato Secondo me E pareggiare Barra perdere a Udine Ci può anche stare Per Anche le fatti Europee Un Udinese Che da quando È subentrato Cioffi Sta giocando In maniera diversa Io ve l'avrei detto Io non so se l'ho detto Questa cosa Ma Penso di no Io non avrei Esonerato Però Effettivamente Con Il cambio in panchina L'Udinese Sta cambiando L'Udinese Sta cambiando Finora non ha mai perso Contro l'Atalanta Sta ampiamente Meritando l'1-0 E forse Poteva fare pure L'2-0 Perché L'Udinese Ha avuto Tre occasioni Particolari La prima Con Ebbusele Che fa uno scatto Di non so quanti metri E poi si perde Negli ultimi metri E L'Udinese Voleva un calcio Di rigore Che non c'è mai Perché Gym City Non lo spingi Non fa fallo Poi penso Al rigore Al rigore Concesso Da Carnesecchi Su fallo netto Su Joao Ferreira Che aveva Dribblato Il portiere Carnesecchi Stende giù Il Il Difensore portugese Pote Il rigore success Palo sul palo Quindi Si rimane Sullo 0-0 E poi Nel finale di partita Attraversa Di Lazar Samarczy Di Lazar Samarczy Che è uno Gioquatore più forti Dell'Udinese Appunto Palla Che va a finire Sulla traversa E Dopo 10 secondi Dalla traversa Di Samarczy Wallace Con un tiro Deviato Trova il gol Che vale il vantaggio Partita Fiorentina Bologna 2-1 Udinese Udinese Fudioso In panchina Tutti i giocatori Secondo me Hanno deluso Eccetto Ederson Che ha trovato Il gol Del pareggio Ecco Dopo l'1-0 Di Wallace Però E grazie Specie Nei primi 60-70 minuti Poi c'è stato un calo Siamo 2-1 Ma un risultato Secondo me Bugiardo Perché ci sono tante cose Da analizzare Un secondo tempo folle Un secondo tempo folle Con il 2-1 Della Fiorentina Su rigore Gol di Nico González Che è stato uno dei migliori Comunque oggi Calcio di rigore Che c'era Era abbastanza netto Trattenuta di Kristiansen Di Kristiansen Scusatemi Volevo dire Abbastanza anche ingenua Secondo me Sui conè Fallo da rigore Lo batte Nico González Che ormai ha certezza E spiazza Skorupski Da quel momento lì Il Bologna reagisce Il Bologna reagisce E C'è stato un altro episodio Molto dubbio Che Che non ha fatto Di certo contesto Tutti a Gomotta Infatti L'albitro Ci ha messo almeno 2-3 minuti Per Decidere Un possibile Calcio di rigore C'è stato un contatto Tra Arthur E se non erro Alexis Salma Kers Ecco Che il secondo tempo È stato un po' più Interprendente All'inizio vi dirò All'inizio Non mi sembrava niente Poi Rivedendo Un po' più di volte Dei dubbi Mi sono Anche a me sorti No Mi è sorto Qualche dubbio Perché all'inizio Salma Kers Cercava quasi Il contatto Poi invece Cercava molto di più La palla E Arthur Ha rischiato grosso Alla fine Maresca Non ha dato il calcio Di rigore Maresca Che comunque È stato molto In confusione Però il Bologna Il Bologna Ha reagito Il Bologna Ha tirato anche tanto Penso Al tiro di Zierze Parato Da Terracciano I numeri sono favoribili Con il Bologna Riguardo i due gol Attesi Il possesso palla Ti rimporta Quattro per parte Quindi comunque È stata una partita Dove secondo me Il Bologna Un punto Se lo meritava E però Questo è il calcio Questo è il calcio E sicuramente Quel contatto lì Tra Salma Kers E Arturo Ha indirezzato La partita E se vi do Della mia opinione È l'opinione Che vi do Sui falli Un po' Sui sempre Rigolini No Perché Quello su Salma Kers Secondo me Non è calcio Di rigore Nel mio ideale Però Se Hai dato All'Udinese Il rigore Lo scorso sabato Per un fallo Che chiamare fallo Era pure poco Di Adli Sui Bosele Mi devi dare pure questo Perché ragazzi Tutti vogliono dire E Cioè tutti dicono E ma la Serie A vuole andare in direzione Per me no Tante parole Di Rocky Che si dice La Serie A Vuole fischiare Meno rigore Ma che cavolo Ma che cavolo dici Cioè con tutto il rispetto Rocky Ma secondo te Si fiscano meno rigore Secondo te Se ne fiscano di più E con tutti questi rigori Sono rigolini Alla fine Sono veramente Dei rigolini Perché Non è possibile Che tu fischi Il rigore All'Udinese Dopo un Fallo Che chiamare fallo E pure tanto Di Adli Sui Bosele Non mi fischi Questo calcio di rigore Che per me neanche Questo è calcio di rigore Ma se tu Decidi di fischiare Ogni rigore A partita E' giusto Che mi dai pure Questo su Simebakers O si va in una direzione Verso la Premier League Comunque Nella quale Si cambia Metodo Si cambia sostanzialmente Metodo Quindi i rigolini Non si fischiano E allora si cambia tutto Mentre se invece Vuoi sempre Fischiare i rigori Me li devi fischiare tutti Non è che uno lo fischi Due no Oppure due li fischi Uno no Cioè Deve essere corretto